Simea, per la prima volta sceglie di premiare i suoi protagonisti, i migliori calciatori della stagione che contribuiscono a rendere il nostro campionato uno dei più affascinanti del mondo, il migliore rettipensore in Italia nella stagione 2018-2017 è Tentu Uribevi! Grazie a tutti! Direttamente da Simone Bocazzotto che ha realizzato questo trofeo speciale proprio per la Nelka Segna, migliori calciatori della stagione 2018-2019, Calidù!